Buonasera a tutti, mi chiamo Jurit Leitz, sono di Borderline Europe, un'associazione tedesca e di Borderline Sicilia, una on-loose siciliana. Noi ci occupiamo del monitoraggio della situazione sull'emigrazione qua in Sicilia soprattutto, perché questo convegno? Questo convegno è naturalmente nato dalle nostre esigenze di lavoro di ogni giorno, però è nato pure per un progetto che si chiama, quello che ci ha dato i fondi per questo progetto è la Comunità Europea, l'Agenzia Eacea e il progetto si chiama Europeizzazione del diritto di asilo e di immigrazione in Italia, a Cipro e in Spagna, centri di detenzione per i migrati versus la direttiva di rimpatrio di cittadini di paesi terzi. Questo progetto ha come partner sia la Germania che ha chiesto i fondi, poi l'Italia a Bordaland Sicilia, la Spagna con due associazioni che si chiamano Federazione Analuzia Acoge e Mugac, sono due, e Chisa del Cipro. Gli ultimi tre si occupano da tantissimi anni di detenzione nei loro paesi e ci vanno spesso nei centri di identificazione e espulsione. Noi ormai sappiamo benissimo che la situazione nei centri di detenzione per i migranti sono catastrofiche. Noi lavoriamo dall'inizio della campagna Lasciateci Entrare, abbiamo Gabriella Guido qua stasera, per fare vedere cosa succede lì dentro. L'obiettivo finale di questo progetto è proprio di informare e di far luce in tutta Europa su quello che sta succedendo in questi centri. Però visto anche dal punto di vista della direttiva di rimpatrio, allora cerchiamo di capire come viene applicata questa direttiva in questi paesi. Questo è il nostro obiettivo, facciamo una grande conferenza l'anno prossimo in Austria, perché lì abbiamo pure un partner che non fa parte del progetto però che fa parte di Bodaland Europe. Sarà una conferenza internazionale con tantissimi partecipanti e facciamo una conferenza alla fine del progetto che sarà in 2014, mi sa. Ci sono dei miei colleghi pure da Berlino. A Bruxelles perché vogliamo dare tutto quello che abbiamo saputo naturalmente alla Commissione e al Parlamento Europeo. Noi oggi ragioniamo sulla direttiva cosiddetta rimpatri. Tecnicamente è la direttiva del 2008 numero 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare. Quindi parliamo del rimpatrio di immigrati irregolari. Questo è il termine tecnico da adottare, non quello di clandestini che purtroppo ancora continuano a correre nella comunicazione pubblica. È una direttiva che quando venne approvata nel 2008 venne definita la direttiva della vergogna. La direttiva della vergogna perché prolungava a 18 mesi, sia pure a certe condizioni, il trattenimento amministrativo degli immigrati sottoposti a pratiche di allontanamento forzato. Direttiva della vergogna perché non prevedeva alcun effetto sospensivo ai ricorsi, di fatto caducando quel diritto di difesa come diritto effettivo, che è previsto sia dall'articolo 24 della nostra Costituzione, che dall'articolo 6 della Convenzione Europea a salvaguarda i diritti dell'uomo. La sorte di questa direttiva, della quale poi vi parleranno anche tutti gli altri relatori, è che nel tempo, a causa dell'arretramento delle politiche di internamento e allontanamento forzato adottate in Italia, quella che, e anche in altri paesi europei è successa la stessa cosa, quella che era la direttiva della vergogna è diventata quasi una direttiva baluardo, argine, rispetto all'inasprimento e soprattutto rispetto all'inasprimento della sanzione penale nei diversi paesi europei nei confronti degli immigrati regolarmente presenti. Inoltre, la direttiva prevede dei caratteri di adeguatezza e proporzionalità per le misure amministrative, quindi provvedimenti di respingimento, espulsione, trattenimento amministrativo, che nel nostro ordinamento purtroppo non vengono quasi mai rispettati. Adeguatezza e proporzionalità sulla quale, peraltro, anche la Corte Costituzionale sarebbe auspicabile che prima o poi battesse un colpo, dicesse qualche cosa. L'altro aspetto che è stato veramente esplosivo rispetto ai centri di detenzione amministrativa è stato il prolungamento a 18 mesi del trattenimento nei cosiddetti CIE, centri di identificazione ed espulsione. Perché, mentre nella direttiva il termine massimo è di 6 mesi, e il prolungamento per ulteriori 12 mesi è di fatto consentito solo in casi molto particolari, con una motivazione specifica, con una convalida individuale da parte del giudice di pace, da parte del giudice. Nel nostro ordinamento, nella pratica del giudice di pace, e lo vediamo nei centri di identificazione ed espulsione, la proroga, dopo i dieci mesi, sta diventando quasi la normalità. L'altro aspetto, però, che oggi ci tocca molto in Sicilia, in Puglia, nei territori di sbarco, è che la direttiva non si applica quando la persona è fermata subito dopo l'ingresso in frontiera. E anzi, la direttiva autorizza l'arresto da parte della polizia, dice la direttiva, per il più breve tempo possibile. Nella pratica, l'arresto di polizia dopo l'ingresso in frontiera, spesso dura settimane. Ora abbiamo a Lampedusa persone da un mese bloccate, senza alcun provvedimento formale che li riguardi, e senza poter agire ad alcun diritto di difesa. Allora dobbiamo ragionare in un'ottica di rafforzare le tutele per le persone che cadono sotto l'effetto di queste norme interne e anche di questa direttiva comunitaria. Occorre una figura, un gruppo di avvocati che sia capace di intervenire tempestivamente e di aiutarsi reciprocamente su casi che espongono molto, anche gli avvocati che entrano in gioco per la difesa degli immigrati. Io mi auguro che l'incontro di oggi, che vede numerosi avvocati che provengono da diverse parti d'Italia, a confronto anche sulle prassi applicate, oltre che sulle norme di attuazione, ci dia la possibilità in futuro di intervenire collegandoci meglio tra noi per poter difendere più efficacemente gli immigrati nei luoghi di ingresso, nei luoghi di detenzione amministrativa e nei luoghi di allontanamento forzato. Ricordo che non c'è solo Lampedusa, abbiamo in Sicilia molti luoghi di detenzione amministrativa informale, stadi, palestre, capannoni industriali, pensiamo a Pozzallo, pensiamo a Porto Empedocle, e abbiamo anche gli aeroporti. Gli aeroporti con zone di transito dove gli immigrati spesso vengono rinchiusi per giorni in attesa di un respingimento immediato. Ebbene, questi sviluppi ci preoccupano molto e ci rendono assolutamente evidente come la difesa legale, l'intervento di prossimità, l'interposizione, potremmo dire, dalla parte delle vittime di queste procedure sia assolutamente fondamentale. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.